Notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Iventi di guerra che dall'Ucraina soffiano sull'Europa orientale stanno portando molti paesi del vecchio continente a incrementare le spese militari. La Polonia ha firmato in queste ore un contratto per l'acquisto di due aerei svedesi di controllo Saab 340 per circa 52 milioni di euro. Le parole del ministro della difesa di Varsavia, Mariusz Blastaka. Il fianco orientale della NATO sarà rafforzato e lo spazio aereo polacco diventerà più sicuro. Doteremo inoltre le forze armate polacche con 96 elicotteri d'attacco Boeing Apache. Il velivolo svedese, insieme alle apparecchiature di terra associate al suo radar, fornisce un quadro dettagliato della situazione al suolo, permettendo compiti di sorveglianza aerea e marittima, intelligence, sorveglianza e controllo dei confini nazionali. La Polonia prevede di spendere quest'anno circa il 4% del prodotto interno lordo nella difesa per modernizzare le proprie forze armate con un incremento di spesa del 12%. Nella lista mondiale dei paesi che hanno maggiormente aumentato le spese militari anche Finlandia più 36%, Lituania più 27% e Svezia più 12%. Ed è proprio Varsavia a nutrire le maggiori preoccupazioni. Nei giorni scorsi i polacchi hanno spostato truppe verso il confine con la Bielorussia e l'Ucraina, sentendosi minacciati dalle esercitazioni congiunte di forze d'elite dell'esercito di Minsk e mercenari della Wagner nella città di confine di Brest. A svelare un retroscena del golpe tentato dalla compagnia privata guidata da Eugenie Prigozhin è stato il Washington Post che citando fonti di intelligence ucraine ed europee afferma che Putin fu avvertito dai servizi almeno due o tre giorni prima di una possibile rivolta, ma non fece nulla per contrastarla, limitandosi a rafforzare la sicurezza in diversi luoghi strategici, compreso il Cremlino. Putin ha avuto il tempo di prendere la decisione di sedare in anticipo la ribellione e arrestare gli organizzatori. Poi, quando è iniziata, c'è stata una paralisi a tutti i livelli. C'era uno sgomento e confusione. E la preoccupazione per la presenza della compagnia militare privata in Bielorussia cresce di giorno in giorno. Nelle ultime ore un convoglio è arrivato nel paese con armi e veicoli corazzati Shuka Uraishkiceka. Si tratta dell'undicesimo convoglio che raggiunge i campi della Wagner. Si stima che i mercenari presenti in Bielorussia siano al momento circa 5.000. E per ora è tutto. Notizie dell'Ucraina è un podcast originale a DN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione segui per trovarci più rapidamente e la funzione notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com